ciao io sono marco e sono responsabile italia per quanto riguarda i farm.com i farm.com è una piattaforma con un network e larghissimo di concessionari e distributori in tutta europa io sono qua in quanto parlo italiano provengo dall'italia e sono qua per snocciolare ogni tuo dubbio sono la persona di riferimento con la quale parlare per cercare la tua prossima macchina agricola sui farm possiamo trovare veramente tante macchine e possiamo trovare anche la giusta macchina con la giusta qualità prezzo sono diversi dubbi per quanto riguarda un partner estero ci sono dubbi per quanto riguarda il trasporto per quanto riguarda il pagamento per quanto riguarda la macchina se in buone condizioni o no ecco noi abbiamo una risposta per ogni dubbio e abbiamo una garanzia per ogni dubbio per la macchina possiamo fare un'ispezione per il pagamento possiamo prevedere formule di pagamento alla consegna e per il trasporto abbiamo il trasporto assicurato quindi abbiamo una garanzia a 360 gradi ecco noi vogliamo essere il partner giusto per te che va a mettere tutta una serie di garanzie per far arrivare la macchina giusta a casa tua senza problemi diverse persone hanno già acquistato con i farm.com appassionati agricoltori contoterzisti anche dopo la consegna della macchina resteremo sempre in contatto per aiutarti e per renderti un cliente felice happy customer quindi cosa aspetti contattami su i farm.com